Le storie di piccoli e grandi protagonisti del Piemonte e dell'Italia dal 1861 al 2011. Questa è la filosofia di base del poderoso volume di opera omnia Comune ricchezza, presentato a Palazzo Lascaris il 16 marzo dall'Associazione Nazionale Comuni d'Italia ANCI. L'incontro è stato aperto da Carlo Scarpa, curatore del libro per la casa editrice a Gepos. Il volume, dopo alcuni testi di vari esperti sull'evoluzione dei diversi aspetti della vita italiana negli ultimi 150 anni, propone una galleria fotografica, dei festeggiamenti per l'anniversario dell'Unità d'Italia e le schede analitiche dei 1206 comuni del Piemonte.